Cassola, in verticale per Calaio, serve un episodio per sbloccare questa partita, Reginaldo che guidi su di lui, parte il cross di Reginaldo, Calaio col sinistro al volo Calaio, attenzione, l'arrondo, troppo debole il suo tiro, avanza il brasiliano, prova l'uno contro uno, Reginaldo va via, mette dentro, un cross, colpo di testa a Frison, miracolosa su Calaio Paivitiello, di un soffio al lato, doppia opportunità per il Siena, Bisò, Bottone, limite dell'aria, attenzione, sinistro e il palo, Salsone, vicinissimo al gol dell'1-0 Tenuto, riesce ad allargare ugualmente per Brienza, buona apertura, Brienza può puntare Catacchini, Brienza l'uno contro uno, Brienza salva Frison, ancora una volta Reginaldo, tocco morbido, ancora una sponda, Vergassola arriva, Vergassola, 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 il vantaggio del Siena è il capitano al 22esimo a portare in vantaggio il Siena Grazie a tutti Grazie a tutti